Ciao a tutti ragazzi bentornati, siamo qui su della Stovass, spero che la storia vi stia piacendo Magari ora sta meglio? Non vorrei deluderti ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere È più forte di quel che pensi Non importa, dubito potrebbe riportarci in città a tutti interi Fidati, vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione Allora, abbiamo perso Tess Ciao piccola Che fai? Dai Ellie, muoviti Siamo scappati dalla città E guardate un po' chi incontriamo adesso Non vi rovino la sorpresa Eh, merda Dobbiamo scalarla No, non da questa parte almeno Dobbiamo girarla Eh, questa bambina Dunque qui da qualche parte c'era una trave se non ricordo male Altrimenti è rimasta su Sì, quei travi non ce ne vediamo un pochino qua su Darò un'occhiata da sopra Questo ci serve Wow, si sono evoluti Sì, sappiamo come farlo Sì Accidenti Questo fresco Vediamo se è salita Ok Andiamo La recinzione superata Sei tu, Bill Dove vi incontrate? Eh? In diversi posti Non sei mai stato? So che vive qui Ma... No, non c'era mai stato di persona E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così Beh, andiamo a controllare Andiamo Dunque Non abbiamo neanche la munizione E qui mi sa che c'è un clicker Subito, subito Esatto Vediamo un pochino se troviamo qualcosa Qui giù non si può passare O sì? Merda È incastrato dall'altro lato Ok, qui facciamo salire Vediamo un attimino Ci fa entrare da qualche parte Ci serve un coltello E lo possiamo fare Quindi con la porta La apriamo senz'altro Vediamo se riusciamo ad aprire questa Facciamo i soliti pezzettini Per migliorarci le armi Tutto ok? Si scende Si va dai clicker Non ti apro neanche Tu non sai fischiare Neanche per idea Ah, ti pareva Oh, munizioni Munizioni Da cosa ci piace? Biglietto pillole Qui non c'è altro Abbiamo anche il coltello Per aprire questa Beh, solitamente Queste stanze da aprire Con il colterlo Hanno un botto di rogo Ottimo Ok, così siamo messi abbastanza bene Allora Ellie Prenditi ultire Vieni Dammi il piede Ascolta Devi solo aprire Ok? Nient'altro Certo Piano Piano Ok Ok Ta-da Ta-da Grazie Allora No Questa volta No Prendiamo Dunque Questi Eh Specie di negozi Dallati della strada Ma li farei tutti Perché sicuramente Poi andiamo da Tommy Si trova un botto di roba E soprattutto faceva parte delle luci Lui avrebbe saputo dove portarti Ok Vive lontano da qui Ci serve un'auto Ehi, guarda Sì Sono degli ignomi Sai Avevo un libro dove ce n'erano un sacco Io ho sempre trovati così bene Queste piante sono molto buone Ma niente mate Quelle mi fanno toglie Non c'è nessuno Bigliettino Bottiglia Non ce ne facciamo niente Forbici Forbici Sì Forbici Sarebano assente Ok Ci hai già giocato? Nah Ma Avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco A quanto pare C'era un personaggio Chiamato Angel Knives Che Com'era? Ti faceva un buco nello stomaco Prima di staccarti la testa a caccia Ok dai Andiamo avanti Ho visto qualcosa qua Tutti i pezzi per migliorare le armi Andiamo avanti Inizia Quino a meno Ti nemmeno Ok Possiamo entrare qua Non c'è nessuno Guarda questo posto Un negozio di vinili Ok Dunque Qui c'è qualcosa Munizioni Porbici Una strada di servivo Bigliettini Sclerivari Dieci pezzi Ehi È piuttosto triste Cosa Tutta questa musica è abbandonata Ok Guardate un po' Letta Oh La miseria Ah ok Mi ha preso la trappola Era Una trappola di bille Una delle trappole Di bille Per usare un eufemismo Ci serve un coltello Ma chi è questo Beh Ci ha aiutato a contrabandare cose in città Sa come trovare roba Speriamo di non saltare in aria Speriamo di non saltare in aria Guarda solo dove cammini Un chilometro coltello Ci siamo Ah devi Non ti va Ok Sembra che non ci sia altro Andiamo Guardate le trappole Figata Figo Tieni quel cavo Stai al di sotto Ok Tieni la testa bassa Ah d'accordo Caro Bisa usare l'arco Immagino di sì Altro giro Altra arma Dai Joe Posizionala Mamma mia No No vabbè Non ci posso credere Allora Joe Prendi la scala Vai sul camion Oh Et voilà Guardate cosa troviamo qui Un arco Un arco Guarda qua Lascialo usare a me Sono brava con quell'affare Lascia questo tipo di cose a me Potremmo avere armi entrambi Coprirci a piccina Non credo Vediamo di provare Ok sali D'accordo Merda Ah non dirmi che è giù Sì Dobbiamo usare Questa Ecco Questa Ci sarà utile Ellie non fa Proprio una mazza Ellie sei inutile Merda Proviamo questo giocattolino No ma com'è possibile Ma ragazzi C'è una mira allucinante Fa veramente sicko Non più frecce E le fette così Ecco la pazzola Me l'accapo Me l'accapo il feggio L'ho scaricato addosso Un caricatore Vedi un po' tu No devi prendere le frecce Zuccone Ora ascolta Bill non è esattamente La persona Più stabile Che ci sia Perciò Quando arriveremo là Lascia parlare Mi Hai capito Ho capito Questa cosa Deve essere molto chiara Lui non Non ama gli estranei D'accordo Bill è un bravo uomo Ha solo Bisogno di un po' di tempo Per imparare a conoscerti Scendi Oh che è una bomba Niente Continua Sì Non c'è nessuno Magari troviamo qualcosa Troverai me? Quanto sarò morta L'infarto Nessun problema Ci penso io Non c'è nessuno Vediamo se troviamo qualcosa di ottimo Oh merda Oh merda Lasciami andare Pronto Gesù Quel cosa mi ha spaventato a morte Eh non chiama Non c'è questo perché non l'ha fatto vedere la visuale Massimo Sì abbiamo fatto bene Entrare Qui non c'è altro Dai bimba Ok Ok Si passa da qua Oh Occhio occhio Stai indietro Ok Fa perdere un prossimo Un'inizione Sto valore E' uno dei modi per farlo Vedi quello Vai indietro Andiamo Sì Decisamente Abbiamo Undici colpi Ci piace di più Allora possiamo entrare lì Stammi vicina Speriamo di avere qualche munizione in più Fortunati Oh Ti ho preso Volca troia Bill Che è successo? E' una delle stupide trappole di Bill Là Il frigorifero Sembra essere quello il contrapeso Ok Taglia la corda E scenderò Faccio io Cioè Vai alla corda Ellie Come va? Faccio più in fretta che posso Dai C'è un po' di essere ancora vivo Con tre colpi Quattro colpi Amen Quando vuoi Ellie Aspetta Ellie Stai bene Si Puoi farcela Ok Altre munizioni Grazie Caputtono Forza Non si taglia Non si taglia Sbrigati Non si taglia Non si taglia Non si taglia Levati di lasso Eh la mira sta tornando A fidare Ehi da questa parte Ok Lascia Mi cazzo Credo di non avere più proiettori No Ancora un po' Amen Ciao 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 Inghietto! Inghietto! Che parte? Eh, ok, eh. Da qua, taglieremo di qua! Corri, andi! Vado. Cider, dov'è quella tannata chiave? Dietro di noi! Vilday! Accidenti a me, oh! Oh! Oh, no, no! Dov'è accidenti, eh? Ancora! Dai, Ellie! Dai, Ellie! Mi rompelo! Grazie per averci salvato. Carina la maschera. Ah, Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! L'alto! Girati e mettiti in ginocchio! Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio! Non provocare! Stai... Vacce piano. Ti è stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Chris, ti sono pulito. Se vedo anche solo un... No! Vasta! Stronza! Hai finito? Si, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fanno? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è? Uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto. Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure. Prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe. Ascolta, mi stronzia. L'ho fanculo, mi hai ammalettato. Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ali, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo.